Sole lascia libero il passaggio in provincia di Udine per il secondo round del Senior Italian Open. La classifica è stretta, segno di un livello di gioco alto ma molto, molto equilibrato. Si danza di più sui green oggi, molti patti imbucati dalla lunga distanza, che diventano il simbolo indiscusso di esperienze e di intuizione. La Francia si fa sentire, prima con Jean-François Remésie che abbassa gli score a 5 colpi sotto al par, poi con Marc Ferri che decide che meno 6 è un numero buono da scrivere sul leaderboard in clubhouse. Ma l'Argentina schiera un guerriero e Cosè Coseres con un 67 raggiunge lo stesso score del francese, prenotando la partenza nel team leader del round finale. Menzione d'onore per Gianluca Pietrobono, il 69 toglie un po' di ruggine dal primo score e proietta l'Azzurro in 35esima posizione per il torneo. Non è mancato il pubblico oggi ed una bellissima clinic sul patting green, tra vecchie glorie e giovani promesse. Un momento di magia per i più piccoli che hanno cercato di strappare da tutti i campioni il maggior numero di segreti per imbucare più parti. L'aria è ferma e l'estate sta tentando di affacciarsi. Cala il silenzio qui a Fagagna, appena prima del rush finale. Noi siamo qua, ammirando questa cartolina di una regione accogliente. Sing your life! Grazie. Grazie.